Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video con i Tigers Io sono Lollo K2 Io sono Matti Tess E oggi siamo in un nuovo let's play di... Cos'è? Perché poi ti casso da tre mesi? Cos'hai fatto? Premi accetta! Non mi hanno fatto niente Premi accetta! Basta farmi le cose! Benvenuti in questo nuovo let's play di A Way Out Un gioco in cui sono queste due simpaticissime persone Che sono finite in galera e dovranno insieme evadere L'unica cosa brutta di questo gioco è che si dovrà giocare in due Quindi se avete questo gioco e non avete nessuno con cui giocare Prendetelo in unico e costringetelo a stare in casa vostra finché non lo finite Esatto Ovviamente noi due abbiamo tutto tranne che la coordinazione Perché questo gioco sarà la cosa di primaria importanza Ehi Vincent, qual'è il tuo plan dopo questo? Che no, io non so Non ho pensato veramente Non ho pensato Ma che caso c'è questo? Questo deve essere il primo per te, mister overthinker Dimmi lei chi vuole essere O ci vada un peccaggio a caso Vuole essere in a zone o bad butto? No, sinceramente preferirei in a zone C'è anche le basette alla Wolverine Quindi questo istangia... istangia... Selezione il personaggio Quindi lei vuole essere in a zone Allora, fermo Allora, Leo Caruso Perché si chiama come il mio prof di religione? Si chiama Leo Caruso No, si chiama Canzo però Allora, aspetta, vai su Vammi su Allora, Leo Caruso Crimine Rapina, aggressione, urto aggravato Ascoltato sei mesi su otto anni La possibilità è sicuro Un cresciuto ironico Lei è cresciuto in un fenotrofio E è entrato nel mondo del crimine in giovane età Bravissimo Ora deve uscire di pagina E mettere la cosa a posto per sua figlia Sua moglie e per se stesso E invece dobbiamo... Aspetta, aspetta Questo ha 36 anni e questo ha 46 anni Quando cercò di rubare un famoso diamante 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 Continuando Esatto Ora deve uscire di pagina e rimettere le cose a posto per suo figlio Sua moglie per... Ah, non avevo detto che... Quelli 36 anni e questo è 43 Questo è Vincent Moretz Prode, appropriazione, indebita e unicidio Sconta 14 anni Razionale, disciplinato e riservato Dopo essersi laureato in economia Per spostare la sua fidanzata del biceo Vincent ha già trattato un impegno in banca La promessa di soddisfaccio E finito a corruminare la vita Quando ha deciso di farsi coinvolgerlo Dal mondo del crimine organizzato Va bene, farò il mio prof di religione Eh, appunto Perché non so neanche che cazzo è il tuo prof di religione E non voglio sapere Mister Nazone Wolverine Wolverine? Ma ci daranno delle armi per evadere o... Sì Il poliziato Tenga questa... Ah, non si sa mai Tenga questa pistola Mi raccomando, non evada Ok, questo mi sa che sono io No, mi sa che sono io Oddio È doppio... Allora io sono... Aspetta, aspetta Allora, con L si corre Però sto facendo tutto lungo Sì, ma aspetta Allora, guardami Premendo questo tasso si corre Io sono già dentro A me non mi fa frontarsi Allora, io dove devo andare adesso Mica, come ti ho camminato lento il mio Io sto provando a farlo correre Eh, ma perché adesso devi... Portate dentro il culo Allora, quadrato per aprire le cose Ma io posso uscire o... Quindi anche se c'è una donna Guardali che si scazzottano Eh, ma guarda che così Detenuti che passano il tempo, eh Proprio... Guardali, guardali, guardali Tu cammina a caso Io sto cercando di capire che succede Ah, aspetta, fermati, guardati, guardati, guarda Vedi un po' Parla a parlargli Contraccolo si parla Cosa vuoi? Sì forte No, facciamo niente, dai Allora, vattene Scusa Toveglia di zoccolino Salve Oh, tutto il nudo Ahia, questa qui non va bene Tutto il nudo, ci censurano Ma che perdi è questo gioco? Sì, ma questo è un porno Non è un video gioco Oddio, ma che cazzo L'acqua fredda Eh, come si muove Se è una sardina Dove devo andare? Sì, però sta parte ce la devo Io non ho capito cosa Cos'è che Allora, il gioco Il triangolo, puoi parlare Ah, ok, è finito Non ti basta Oh, 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 che succede a me? Ma che vuole questo? No, pure il pisello Ma dai, ma cazzo questo Dobbiamo censurarlo assolutamente No, dai, questo stifo no Chi è Harvey? Ah, guarda che sono tutti Mi sa che sei tu Harvey, manda i miei saluti Che succede? Io lo cazzo sono Noi tutti nudi ancora Quando è che hai minuto di vestirti? Vuoi stare nudo? Ah 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 Eh, vai Ci ghiapettiamo in cinque Che è, che è? Che succede qui? Possiamo vestirci Ah, ma ti sto guardando Grazie Salve Eh, come va di sotto? Bene, amico, vedi che facciamo gli scopi amici Ora sai, mi chiede Ehi, questioni Su cosa sono io? Ah, quando ci siamo a disposizione qui? Ah, io ho un calcio nessuno in faccia No, guarda che è una domanda giusta, eh Ci si può arricchere Guarda, 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 lo sapevo, lo sapevo di dare un calcio in faccia Non era un calcio, ma lo stavo, non lo sto parlando Ah, poi sono un calcio, un specchio Butto Sì, però, sì, però, sì, te, dice Salve No, non posso vedere Go, 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 go Sì, sono da, sono lì No, aspetta, guarda, mi guarda Ah, non posso, non posso Dovete andare io? Sono lì Ma posso stare qui? Aspetta, non mi vedo se ti vedo Dove sei? Sono lì sopra, sono lì sopra, ciao Ah, ciao, amico Ti piace il mio culo Aspetta, aspetta che vengo contenti, si vuole da sopra Come cosa si corre? Eh, ma te ancora non puoi correre Arrivo, amore mio Siamo in cella, yeah Come cazzo abbiamo fatto, come cazzo ho fatto a vestirmi in uno schocco di dita Tu non farti domande Mi sono già vestito Come dico io e come dici tu a me per il ribattito Quindi noi dobbiamo evadere dalla prigione Perfetto Oh, ci rincontriamo No, lo vediamo, è il mio amico Nero È il mio amico Oh, non lo so Non lo so Perfetto, vuoi vedere che sono un pio delle ammazzate? Eh Tira fuori gli artigli, i wolverini ai combatti Ah, in effetti è vero, sembra gli wolverini Dove sei, dove sei, dove sei In palestra Dov'è la palestra? Come faccio ad alzare? Trova punti di interesse Aspetta, le due Trova punti di interesse Ah, guarda un po' Velo te che ti muovi Aspetta, posso correre adesso? Che bello, troppo Velo te che ti muovi Anch'io Provo usare le due per... Se usi le due puoi trovare una freccia verde Eccoti La freccia verde sono io Eccoti E i palinigiani sono gli altri Amore, mi arrivo Ma con chi devo parlare? Ma di persone ci sono con chi parlare? Ma qua non si può saltare, non fa un cazzo questo Ciao amico Ma questo non salta, non pica Ma neanche io posso saltare Posso ingrandire, diminuire Ma con chi devo parlare comunque? Con me, parla con me Devo parlare con te? Con me, ho un quadrato Come ci riuniamo? Per sederci Corri, non fa papamolla Eh ma il problema è che non può... Ah qua aspetta Qui? Dove sei dove sei? Ho capito dove sei Aspetta che ti raggiungo No, mica adesso ci vedono queste Oh, levatevi per il cazzo Posso passare? Che succede? Aspetta Posso passare? Ah ma... Posso introdurre? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Ah ah lo sapevo, lo sapevo Lo sapevo che adesso mi picciano Questa è... Devo fare qualcosa? Ah 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 Posso... Con far cambiare? Chi è questo? Chi è questo? Chi è questo? Chi è questo armi? Posso fare? Senza anche te lo uccidiamo insieme Eeeh eh eh Sei brutto te, guarda, te sei il più brutto Basta ma... Ti gassi Posso reagire? Stai calmo Dove sei? No, mi... 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 Aiutami, aiutami, non picchiamo Oh, pezzi Come on, motherfucker Oh! Lo facciamo a pezzi insieme, cosa fa? Cos'è? Devi fare delle morte Colpisci, colpisci Uccidilo Vedi che sto facendo? Quanto... Triangolo, triangolo Non l'ho visto Quadratto Devi essere la voce Era molto... Eh, eh sì, io che faccio? Aia! Ma pigliati! Ma pigliati! Ma pigli ste amazzate da parte di... Eeeh, certo! Ma guarda, lì! Vai chied자 Vai Aia! Vai, figlia! È.. E' molto interattivo in questo gioco Ti decidi Vai Coprisci, coprisci Io, che figlio Intanto io lì stavo malmenando l'amico bordo Ma ragione, o la cogno No, fai tanto figlio a tirare i pugni agli altri Scarpito Eeeh, volevi Guarda che schifone Eh, beh va spalla spalla Ciao, amico lo picchiamo insieme ma chi è questo? schiva ma che calcio lo cambia vai così tocca a me vabbè 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 scusami da quando un avvocato picchia le persone chi è che ci sta guardando dall'alto? poliziotto ma da quando un avvocato sapeva picchiare la gente oh guarda che tutti possono far tutto eh ecco adesso ci faranno era pura difesa era pura difesa no è l'isolamento no è orribile eh si si tu stavi morendo distanguato ma no ma perchè ma come? guarda che è orribile l'isolamento io sono guarda una serie tv tv dove ci sono queste tizze che sono in penitenziario quindi praticamente alcune cose ne so l'isolamento ti metto in una cella rinchiuso da solo con tipo ti danno gli ansi dei cibi muffiti stai con gente pazza cioè praticamente adesso io odio te non so perchè e anche se ci siamo aiutati ma bello che qua sono tutti sono tutti prigionieri eh chi dà i cessi chi dà da mangiare tutti sono prigionieri ma perchè alcuni prigionieri riescono a guadagnarsi i lavori per poter avere lo sconto di pena eh eccolo lì sono tornato non ho più sangue nel naso che nasca tra l'altro io ho niente la sorte io ho avuto sangue nel naso per tutta la settimana qui ho scelto il personaggio giusto dov'è che sei aspetta hai le due per trovarti no no cosa vuoi da me oh mi hai gridato dietro fino ad adesso adesso non mi vuoi anche se eh ma chi io non mi fa sedere perchè non posso passare non mi ha perso siedo eh posso andare a mangiare? oh ma cosa non vogliono questi fatteli passare eh io non so tra i ragazzi devo mangiare però devi segnati a qualche parte aiutati ad ascoltare qua perchè vedo che c'è un cibo ma non voglio usare la porta ah non mi f***a quando mi f***o certo certo ma aspetta che mi sia vicino a te amico io non voglio odiarti ma che cazzo vuoi da me? io non voglio odiarti ma questo beve e basta bevi? dov'è che sei? io ti sei seduto? ecco ti li ciao mico posso mangiare o devo solo bere? no devo solo bere devo bere allora adesso parli no ancora e dai non ne posso è lo stesso di prima aiuto aiuto maledetto non è che potreste aiutarmi? no non è che potreste aiutarmi grazie eh r2 grazie amico ti voglio bene eh arriva l'altro che mi deve menare anche se il mio personaggio ti odia sappi che io ti voglio bene carissimo ho capito che siamo in prigione ma non ho mai visto così qualche scazzolta in una sola giornata in neanche mezza giornata eeeh vabbè che fa questo adesso si scuola si scuola guarda che sono criminali eh tanto ormai sono già in prigione quindi non hanno un'altra alternativa aiuto mi sai che qui siamo devo allontanarti allontanarti allontanati 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 grazie 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 ma perchè non gli sbattiti nel misuramento grazie 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 fischialo vami ma ammazzatelo siii ma questo va direttamente nel carcere di massima sicurezza no questo non metti neanche il penale di morte questo qua va alle giaste ma io non ho mai visto così tante riste neanche mezza giornata in una prigione non che ci sia stato in prigione ma non penso funzioni che si sono scazzoltate no non ci sono fidati ovviamente io soltanto ho preso le accoltellate eh no guarda che è l'unico passatempo che mi sono fa a spicchiare e non altro alternativo oh meno male che o meno male che ci sta indiettando la droga meno male che almeno qui le uniche persone buone sono le infermiere e gli infermieri ahiaiaia thanks ma andati la ti vede ma vabbè e gli voglio dare la sorte e volenti siamo sempre insieme ma io che cazzo sto facendo stai ma non sono io eh ah no per me che cazzo perchè cosa sta sfidando quello il suo un cacciavite vuoi vedere no quello vuole prendere un cacciavite sei lì sei lì però vuole prendere un cacciavite no quello vuole mi sa ma che prezzo vuole quello eeeh mi tratti male e poi eeeh vedi che mi so senti grazie non c'è problema mira ma che a te io mi piaceva con lui ma appunto ma non preoccuparti c'era con me più che con te potresti farmi un favore? come cosa? c'è qualcosa che ho bisogno o quello esatto esatto mamma si ma chiedono e allora che prendiamo sangue e prendiamo tutto ma i nostri capelli rimangono sempre a posto secondo me ci mettiamo una lì ahia adesso mi sa che sta iniziando il piano per evadere qui e però no 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 aspetta aspetta che cosa? non puoi solo andare qui ovviamente siamo tutti in un cacciavite ma non ho una scuola ok ok io ti aiuto infatti ed è qui che inizia dopo una scazzottata i minuti invento un piano per evadere no? mantieni gli occhi quindi adesso te stai lì non fai niente devi chiamare l'infermiera per distrarre tutti te vadi e va a favolo no ah aspetta posso fare un attimo ok opzioni eh dove che è l'audio bra l'audio su audio sottotitoli si cazzo non c'è non c'è la lingua vabbè ragazzi qui il nostro primo la nostra la nostra prima giornata in isola in prigione finisce qui isolamento con una bella scazzottata è già in mente qualcosa per evadere se volete vedere il prossimo episodio iscrivetevi ci vedremo ciao ciao ciao